Eccoci qua, oggi commentiamo un pareggio, terza partita consecutiva che non troviamo la vittoria, prima di questa due sconfitte e oggi solo pareggio, quando per me potevo portarla a casa tranquillamente. Parte male la partita, parte con il gol dell'Eco che arriva da un rigore per me assurdo, perché di contatti simili a quello che ha provocato sverco, ce ne sono migliaia di interventi così e se devi fischiarli tutti allora diventa una partita di rigore sostanzialmente, quindi non vanno fischiati. L'arbitro decide di fischiarlo, va bene, ok, questo è il suo metro, segna l'Eco quindi vantaggio, poi però in quelle poche occasioni che riusciamo a creare nel primo tempo per la confusione in campo, secondo me è troppo evidente, ci sono altri, almeno due interventi che potevano essere fischiati allo stesso modo, molto simili, che potevano essere tranquillamente rigori anche quelli, secondo ovviamente il metodo dell'arbitro, non il mio perché per quanto mi riguarda nessuno ha la rigore, ma neanche quello per il Lecco ovviamente, quindi rigore per me folle, addirittura abbonisce Jonsen perché ritiene si abbia simulato, quindi le comiche, le comiche e niente quindi il primo tempo si chiude male, si chiude con un Venezia che fa fatica a reagire, costruisce ma costruisce male, loro sono tutti chiusi, fanno la partita che volevano fare, che desideravano e si chiudono bene, partita sporchissima, sporchissima, brutta brutta brutta, brutta perché loro fanno sì che l'altra squadra giochi male, l'hanno impostata così e l'altrone per salvarsi è il gioco ideale, per portare a casa punti anche contro squadre nettamente le più forti di te, e hanno fatto bene, ci sono riusciti, non si può dire niente, secondo tempo, ripartiamo bene, arriviamo subito aggressivi, c'è un altro piglio insomma, e riusciamo a trovare il gol, il gran gol di Jonsen sul lancio di Tasman, su un cambio gioco pazzesco, pazzesco, e Jonsen si imbuca bene ed è 1-1, e lì effettivamente poi un minuto dopo arriva il gol, un gol miciniale di Tasman, che da casa sua la mette dentro, sembra mettersi bene, però purtroppo la sventura è sempre dietro l'angolo, e infatti al settantesimo circa arriva il gol, fortuito, fortuito perché non si può dire che sia stato meritato, non stavano costruendo nulla di particolare, azioni sconclusionate, però l'Eco riuscì a trovare il gol con Ionita, e lì è malposizionamento alla difesa, ma è talmente fortuito che non me lo aspettavo, non me lo aspettavo minimamente in quel frangente di subire il gol, ma anche in quel momento lì non pensavo potesse esserci il gol, non mi davano, l'Eco non mi dava segnali che potessero segnare da un momento all'altro, purtroppo così non è stato, e ce l'hanno messa in quel posto, e la cosa che mi ha dato più fastidio è che dopo quel momento lì non abbiamo reagito, cioè abbiamo fatto fatichissima a reagire, lì non abbiamo reagito, e mi fa molto riflettere perché hanno tenuto palla, dopo il gol dell'Eco, il secondo gol di Ionita, non hanno tenuto palla, hanno fatto girare palla tranquillamente, e hanno un po' enerosito la partita, così due o tre falletti, però hanno saputo gestire palla e che hanno fatto passare il tempo, siamo arrivati al novantesimo, un giocatore dei loro è uscito perché a cambi tutti effettuati è uscito quindi per infortunio, quindi sono rimasti in dieci, e poco dopo arriva il rosso per Lemmonds che li lascia addirittura in nove, però a quel punto lì mancavano forse due minuti, tutto inutile, cioè non cambia nulla quel punto perché si tratta solo di palloni messi in mezzo, a casaccio, sperando, pregando, e se la fortuna non è da la tua parte non la porti a casa, infatti non è andata così, dispiace, dispiace tanto perché poteva essere la partita giusta per ripartire, per riportare i tre punti, adesso che le inseguitrici, le rivali si stanno avvicinando sempre di più, purtroppo la Serie B è un campionato tostissimo, tostissimo, su questo lato qui puoi perdere con l'ultima, puoi vincere con la prima, non cambia molto, il problema adesso secondo me è che mentalmente c'è un periodo in cui non facciamo fatica a trovarci, vedo ancora, vedo queste partite, tanta imprecisione, pochi spunti, gli schemi ci sono per carità, però se poi i giocatori non riescono a metterli a frutto, la partita comunque non la porti a casa, quindi nulla, dispiace anche che mentalmente è un po' di volta che sto vedendo che facciamo fatica a reagire, c'è stato una reazione dopo il primo gol, soprattutto all'inizio del secondo tempo, che sicuramente Vanoli su questo ha inciso negli spogliatoi, però dopo il secondo gol io non ho visto l'azione onestamente, faccio fatica a dire che potevamo meritare di portarla a casa, no, secondo me purtroppo no, ci siamo affidati a palli inattive per gli ultimi 3-4 minuti, 5 minuti, quello che è, insomma, così non va, dovevano essere 20 minuti di furore dopo il secondo gol subito, ingenuamente, invece non, io non ho visto quella reazione onestamente, è da fastidio, da fastidio, perché probabilmente mentalmente la squadra adesso non è al 100% ed è palese, però serve una scossa, spero che il mister riesca a darla, e ovviamente fiducia totale non è quello periodi negativi nella stagione ce ne possono essere, insomma, se pensiamo all'anno scorso dove eravamo in questi momenti, insomma, in confronto a, nello scorso siamo in paradiso, però detto questo, comunque, guardando oggi, il momento sicuramente non è, non è dei migliori, bisogna riprendersi, e adesso c'è il, il 26, c'è subito un altro match che può essere, può essere un'occasione perfetta per riprendersi, per provare a riportare a casa questi punti maledetti, un punto in tre partite per questa squadra non è concepibile, perché so che può dare molto di più, sappiamo tutti che può dare molto di più, e va bene, cioè, andiamo avanti, fiducia a tutti, però bisogna svegliarsi, nulla, io non so cos'altro dire, spero una relazione, già il 26, già tanto Stefano, e speriamo bene, speriamo bene, perché valiamo molto di più di quanto abbiamo fatto vedere oggi, nulla, ricordate di lasciare un like, di iscrivervi, se volete lasciate un commento, se non siete d'accordo con qualcosa, volete aggiungere un vostro pensiero, fatelo pure nei commenti, e niente, aspettate per la live reaction che uscirà probabilmente domani, o oggi in tarta serata, ma più presumibilmente domani insomma, va bene, alla prossima!